Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara. Penne boom di presenze turistiche nel 2018 in provincia di Chieti con 1.045.331 sono state il 9,3% in più rispetto all'anno prima. Seguono Pescara che fa registrare un più 8,5% con 1.039.394 presenze e l'Aquila con un più 7% pari a 919.851 presenze. L'unica provincia a far registrare il segno meno è quella di Teramo con il suo meno 2,6%, 3.330.496 presenze in tutto. In Abruzzo nel complesso le presenze pari a 6.335.072, di cui il 13,7% costituite da turisti stranieri. Lo scorso anno le presenze sono aumentate del 2,3% al di sopra della media nazionale, ferma invece al 2%. E' quanto emerge da un'indagine del centro studi di Confartigianato Chieti-L'Aquila. Dallo studio viene fuori che i comparti dell'Abruzzo potenzialmente interessati dalla domanda turistica sono abbigliamento e calzature, fotografia, cornici, gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro, lavorazioni artistiche del marmo, del ferro, del rame e dei metalli, cure per animali domestici, centri benessere, palestre, agroalimentare, trasporti, ristoranti e pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, attività ricreative, culturali, intrattenimento, giornali, guide, editoria e strutture ricettive. Si tratta nel complesso di 4.637 imprese artigiane. Anche in Abruzzo, GGL, CISL e UIL aderiscono alle due giornate di sciopero dei lavoratori del settore trasporti che chiedono la soluzione di problemi che, dicono, si protraggono ormai da troppo tempo. Chiedono, in particolare, di rimettere in movimento il Paese e risolvere gli annosi problemi legati all'infrastruttura e trasporti, i sindacati di CGL e CISL e UIL che hanno dunque programmato un imponente sciopero generale per il 24 e 26 luglio. In particolare, il 24 luglio, gli autobus urbani ed extraurbani saranno fermi dalle 19.30 alle 23.30, mentre gli addetti alla circolazione dei treni non lavoreranno dalle 9.01 alle 17.01. Durerà 24 ore lo sciopero dei taxi, anche se il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati sarà garantito. L'autonoleggio con conducente sarà fermo dalle 10.00 alle 14.00. Tutto questo accadrà mercoledì. Invece, venerdì 26 luglio, gli aerei non saranno garantiti dalle 10.00 alle 14.00. Ennesima emergenza idrica nel Chietino, dove da ieri mattina sono senza acqua 18 comuni a causa di una nuova rottura, dopo quella lungo l'acquedotto verde. Restano dunque senza acqua questi comuni fino alle 13.00 di oggi. La situazione si è purtroppo ripresentata con gli stessi problemi e le stesse inevitabili difficoltà, si legge in una nota della Sasi, la società pubblica che ha in gestione la rete dell'acqua. La causa dello stop è un altro intervento urgente di riparazione lungo l'acquedotto verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto, nel comune di Archi. È stato necessario sospendere la fornitura idrica fino alle 13.00 di oggi. I lavori sono in corso sulla condotta principale. In località Fosso-Ciripollo spiegano alla Sasi. I tecnici assicurano che il servizio sarà ripristinato entro i tempi stabiliti. Questi sono i 18 comuni interessati dal provvedimento di chiusura. Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli in località Colle Marco, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villa Alfonsina. Per garantire l'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso, ospedali, vigili del fuoco, eccetera, la Sasi comunica la posizione di due punti di prelievo, San Salvo, via Vasco de Gama e Vasto Marina, via Grecale. Giungono voci nelle ultime ore di multe salate ad automobilisti in transito con autovetture con parabrezza o lunotti fortemente lesionati. Fermarestando la dovuta applicazione del codice della strada, chiediamo alle polizie municipali pescarese e francavillese di interpretare la norma, tenendo conto dello stato di eccezionalità dell'accaduto e dell'obiettiva difficoltà delle autofficine autorizzate a sostituire i vetri lesionati dalla grandina a medio termine. Lo dice Donato Fioriti, presidente regionale dell'Associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo e componente della Giunta Nazionale Contribuenti Italiani. Lo stato di necessità lavorativa e familiare, spiega Fioriti, spinge molti automobilisti ad usare l'autoveicolo pur in condizioni non ottimali, situazione che credo dovrà andare avanti ancora per molti giorni. Ieri mattina il personale del distretto provinciale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di L'Aquila allertato dai vigili del fuoco è intervenuto presso il centro postale operativo del capoluogo regionale in località Centicolella, in seguito alla fuoriuscita di un fluido di color senape da un pacco. A titolo precauzionale i tecnici dell'Arta hanno comunque campionato la sostanza per identificarla. Oltre ai vigili del fuoco erano presenti sul posto anche la polizia postale e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla Aquilana. Gli esiti degli accertamenti analitici saranno forniti alle autorità competenti. 30 anni, 22 anni, 11 anni. Sono stati gli anniversari a rendere speciale l'undicesima edizione dell'Open House del Banco Alimentare dell'Abruzzo. La serata di autofinanziamento svoltasi giovedì nel magazzino di Via Celestino V a Pescara con la partecipazione di 300 tra imprenditori, professionisti, autorità e amici. Tema centrale dell'evento presentato dal giornalista Rai Umberto Braccini, i 30 anni di vita del Banco Alimentare, fondato a livello nazionale nell'89, è presente in Abruzzo dal 97, anniversario riassunto nello slogan Compagni di Banco da 30 anni in viaggio. A fare gli onori di casa Antonio Dionisio, neopresidente del Banco Alimentare Abruzzo, che nel corso del suo saluto ha rimarcato il desiderio di portare avanti, con il nuovo direttivo, quest'opera così importante, capace, ha detto, di coinvolgere tantissime imprese, associazioni e numerosi volontari. Senza di voi, ha rimarcato, tutto questo sarebbe difficile. Grazie di cuore a tutti, in particolare allo staff del Banco Alimentare dell'Abruzzo, diretto da Cosimo Tribisani, che ha realizzato la serata con la passione, e la dedizione di sempre. Insieme a tutto il consiglio direttivo, Dionisio ha consegnato una targa a Luigi Nigliato, per 22 anni, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, solennemente nominato presidente onorario. A Montesilvano, dopo l'incontro del sindaco De Martinis con i residenti di Via Livenza, che hanno denunciato una situazione insostenibile nel periodo estivo per la viabilità e la sicurezza stradale, la Giunta Comunale ha approvato la delibera che autorizza l'apertura di Via Crati, la via che si trova nel quartiere di Santa Filomena, strada senza uscita per i veicoli, area privata che impedisce al momento il collegamento con Via Livenza, interrompendo la continuità di un'arteria stradale importante e in adiacenza alla Pineta, soprattutto durante l'estate. Da molti anni l'amministrazione comunale ha approvato la soluzione del problema a seguito di contatti con il condominio Coreco 68, ma solo ora si è giunti a una soluzione che prevede lo scambio di aree con l'Istituto del Comodato d'Uso per la durata di nove anni, con facoltà di rinnovo di uguale periodo. Il Comune dovrà provvedere a sistemare l'area per consentire il ricongiungimento dei due tratti della sede stradale, lato Via Crati e lato Via Livenza, nel rispetto delle leggi in vigore e della segnaletica stradale. Si procederà alla realizzazione di opere removibili per delimitare con recinzione l'area che verrà data al condominio. Intanto a Pescara si è svolto in piazza Santa Caterina da Siena il consiglio comunale straordinario dopo i recenti fatti di cronaca, diverse le proposte presentate, ma c'è anche il dibattito sulla proposta del consigliere della Lega Armando Foschi di tornare con un altro consiglio comunale aperto sempre nella stessa piazza tra sei mesi per verificare se saranno state fatte delle azioni di reale contrasto rispetto all'insicurezza seminata nella zona da episodi di criminalità che, come ripetiamo, si sono verificati anche nei giorni scorsi. Oggi è sabato 20 luglio e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Palmerino di Sciascio. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a tutto il pomeriggio, nuvoloso in serata con temperature da 23 a 30 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno fino a tutto il pomeriggio, nuvoloso nelle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 24 a 30 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo sereno fino alle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 25 a 31 gradi e 20 deboli e nelle zone interne. Cielo sereno fino a metà pomeriggio, poco nuvoloso nel resto del pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 25 a 32 gradi e 20 deboli. In mare è previsto quasi calmo sia oggi che domani. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie per la visione!